Minacce ed ingiuri anonime continue in rete. È il caso che arriva da Battipaglia dove una quattordicenne si è vista costretta a presentare una denuncia alla Procura della Repubblica. La ragazza avrebbe ricevuto messaggi anonimi contenenti minacce varie e rivoltasi alla madre avrebbe deciso di denunciare l'accaduto. La Procura ha fatto scattare immediatamente le indagini per scoprire i responsabili di tale minacce che hanno procurato alla ragazza stati d'ansia e di paura.